Forse un malore alla base dell'uscita di strada autonoma dell'Alfa Romeo Giulietta, condotta da un 28enne anconetano alle 7.30 di questa mattina lungo la statale adriatica, subito dopo Fano. Lo scenario apparso ai suoi corruttori è sembrato più grave di quello che poi in realtà si sono dimostrate le conseguenze. L'auto, completamente distrutta nella parte anteriore, incastrata tra il distributore e la siepe e con gli airbag esplosi ed una colonnina di erogazione del carburante sradicata dalla sua sede in cemento, oltre che la siepe ed un'insegna bassa del distributore abbattuti ed un forte odore di carburante nell'aria. L'auto, condotta da l'anconetano che procedeva in direzione Pesero e per cause ancora al vaglio dell'infortunistica della polizia locale di Fano, ha attraversato tutta la careggiata finendo la sua corsa dentro il distributore di carburante IP nella corsia opposta della statale 16. L'urto, anche se violento contro la colonnina di carburante del distributore, ha causato solo lievi ferite e contusioni al conducente del mezzo, giudicate guaribili dai sanitari del Santa Croce, dove il giovane è stato trasportato dal 118 in soli 5 giorni. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Fano per valutare la situazione e mettere in sicurezza l'intera area e due pattuglie della polizia municipale per i rilievi e le procedure di legge. Il distributore di carburante poi è rimasto chiuso per il resto della mattinata a causa dei danni subiti nello schianto.